E ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao annetti, ciao annette Oggi noi giocheremo a Sumo Challenge Allora, non mi chiedete di cosa consiste il gioco perché l'ho appena scaricato Cancelliamo un po' le notifiche Perfetto, allora Giochiamo Mamma mia Veloce Eeeh, quanto sei bello Mamma mia Vattene per vista E dai Fai Allora, io sono quello là con la mutanda gialla No, non è la gamba Ci sono poco i passi passi Ho potuto la gialla Perché? Perché? Va bene, non guardate No, non guardate vabbè con niente perfetto oh 200 minuti perfetto ti prego accetta non fare niente ti prego accetta perfetto e start eeeh un pego un pego carino poi prima anche almeno continuare ok ma perché me lo stai facendo fare? boom 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 muore boom che c'è? che c'è? ti ha trisciottato? nonno mio quanto so forte con un letto 350 oh no basta pubblicità che me ne faccio? oh grazie grazie next open it lever shoot adesso perfetto 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 ma che sta facendo? spero che avete visto mamma mia scherzo ma non mi sono così sinceramente scusate Ti prego, basta pubblicità però Uh, 500 Basta pubblicità Non ce la faccio più che un pezzo pubblicità Next Open it Raga, non vi dimenticate di lasciare un like Di condividere il video Se Condividere il video Di lasciare un like Di Attivare la campanina se ancora non l'avete fatto E di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Grazie Allora Ma io ti sciotto Perché c'è un'altra Che vergona Che vergona Eh, boh Ma io non voglio Oh, calma Boom, boom, boom Buda, 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 buda Bada, bada, boom, buda Muri La sto latirando La latirando Perfetto E anche ora Abbiamo vinto Votazione Quattro Perfetto Va bene Comunque Quattro stile Allora 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 Basta pubblicità Oh Mamma Vabbè Bellissimo Questo gioco Abbiamo Preso niente Ma che c'è Ma che c'è Vabbè E finalmente abbiamo Guardate Guardate i miei testicoli Va bene Come fight Prepare yourself Fight 18 Che c'è Ma ancora combattere Con me Quanto so forte Mamma mia Sono Cucufanda Non mi ricordo il nome Cucupanda Ecco Cucupanda Basta pubblicità Niente raga Facciamo l'ultima partita Il mio nome E Il nome Sì il mio nome è il nome Perfetto Andiamo a rifare un'altra partita Comunque raga questa è l'ultima Non so se vogliamo continuare Perché questo gioco è carino Comunque era amice Raga Lo scrivetemelo nei commenti Raga Veramente Se Continua Se lo vogliamo continuare Oppure no Allora Ma io mi vergogno Però di Ucciderla Scusa Capisco Che le donne Però questo è Violentismo Violenza Contro le donne Mi dispiace ma Non è vero La voglio ammazzare Boom 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 Sì Boom Di tuoi la pancia Sì Boom In testa Boom In faccia Boom 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 Zitta Boom 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 18 Hai capito? 18 18 Ti sciolto Ti sciolto Ti sciolto Ti sciolto 1 2 3 4 5 6 7 Penso che lei È leggermente Forte Va bene raga Noi ci fermiamo così Basta pubblicità Fa niente Tanto Ha finito il video Noi ci fermiamo così Va benissimo così Noi ci vediamo Alla prossima E niente Ciao ragazzi Ciao ragazze Ciao nonetti Ciao nonette Ciao ciao